Ciao, volete scoprire dove sia la spiaggia di Calignaia? Come ci si arriva? Dove si parcheggia? Qual è la storia della spiaggia di Calignaia? Ci sono ristoranti e bar o alberghi nelle vicinanze? Com'è il mare ed il fondale di Calignaia? Cosa c'è da sapere sulla baia di Calignaia? Se siete interessati, forza! Cliccate ed esplorate la playlist indicata in descrizione oppure invocate la playlist di Youtube con www.miakalignaia.tk Ciao, mi aspetto!